buona giornata amici da massimo foghetti oggi è mercoledì 24 novembre 2021 iniziamo insieme la giornata dando un'occhiata ai giornali per conoscere le notizie che si sono così sono salite la ribalta nella giornata di ieri e cominciamo però come sempre per conoscere il santo del giorno e poi il meteo e vediamo che il santo del giorno è in buona compagnia oggi si festeggia un santo particolare si chiama si chiama andrea dung lak e si festeggia insieme a 116 compagni ebbene sono compagni martiri vietnamiti la storia infatti inizia nel 1615 quando due gesuiti furono mandati a evangelizzare le popolazioni orientali ebbene approdarono nel porto di turen oggi si chiama dang nang fecero opera di proselitismo tra la popolazione locale e ben presto però si trovarono in contrasto con il potere locale che intraprese una feroce persecuzione mandando a morte molti molti convertiti ebbene morirono anche andrea dung lak e i suoi 116 compagni quindi un santo da conoscere se è possibile così per verificare anche come i gesuiti fecero una grande opera missionaria nel nell'oriente nell'oriente e vediamo ora le condizioni del tempo passiamo alla mappa della nostra regione e vediamo come le nuvolette si associano un po alla pioggia sarà una giornata nuvolosa nonostante che questa mattina c'era un'ampia schiarita sul cielo di fano ci saranno residue piovigini al mattino e poi locali schiarite soprattutto nel pomeriggio e nell'entroterra appenninico le temperature sono sempre in calo le minime saranno sui 9 gradi le massime sugli 11 quindi una bassa escursione termica e così passiamo ora alle notizie dei giornali a partire dalla prima pagina del corriere adriatico turismo volano di sviluppo e del titolo di apertura che enuncia un po' quello che è stato detto ieri nella riunione della confindustria la priorità di alessandra baronciani eletta la presidenza di confindustria per il prossimo quadrienio in continuità con papalini il presidente di missionario gli obiettivi riguarderanno soprattutto manifattura e impresa al femminile ma non solo ovviamente ci sarà uno sguardo a largo raggio vedremo poi nell'interno cosa ha detto la baronciani ora potrò decidere quando morire è la didascalia la fotonotizia centrale del corriere adriatico si parla di suicidio assistito il primo in italia è un pesarese che ha preso questa drammatica decisione i tre titoli a centro pagina pesaro galantara attivati nuovi posti letto per i pazienti covid colpita a 13 anni da una emologia questa ragazzina è stata salvata dall'equipe di neurochirurgia del dottore morabito tassa su rifiuti siamo sempre a pesaro un milione in più il gettito ne vale 19 e poi a fano invece abbiamo una serie di reati che hanno comportato l'applicazione del codice rosso amore tossico e rancore tutti i casi documentati a fano dalla polizia in uno la persi la persecuzione era opera di una donna e la vittima dunque era un uomo apriamo subito il corriere adriatico per vedere le pagine interne e vediamo la decisione del pesarese il nome che appare è un nome così di convenzione si chiama mario ma non è il suo vero nome però ha 43 anni ed è purtroppo tetraplegico da 11 per il comitato etico ai quattro requisiti per il suicidio assistito e comunque ci sono dubbi sul farmaco letale la regione deve decidere il tribunale l'avvocato non è necessario insomma ci sono anche qui polemiche e contrasti ma diamo un'occhiata a questa vicenda che assume un grande valore etico mario 43 anni è residente nel pesarese dal 2010 è paralizzato dal collo in giù dopo un incidente stradale con l'associazione luca coscioni ha fatto richiesta all'asur marker per accertare i requisiti e procedere legalmente al suicidio assistito l'asur ha negato la richiesta e anche il tribunale ha confermato questa linea però nel giugno del di quest'anno del 2021 il tribunale ha ribaltato la decisione e ha imposto all'asur di verificare se ci siano le condizioni per l'accesso al suicidio assistito al primo settembre dopo una diffida l'asur ha dato il via alla procedura e il 14 ottobre scorso al comitato etico regionale è arrivata la relazione dell'equipe interdisciplinare dell'area vasta 2 insomma con un parere positivo e c'è anche il parere della chiesa oggi sui giornali e lo esprime monsignor paglia che è presidente della pontificia accademia per la vita comprensibile ha detto la sofferenza ma non si incoraggi il suicidio e c'è anche una dichiarazione a fondo pagina del sindaco ricci su etica e diritti no a zone grigie serve la legge sul fine vita insomma non si può decidere così a seconda degli umori occorre una legge precisa a cui fare riferimento ed eccola qui la nuova presidente di confindustria alessandra baronciani questa è la fotografia che la retrai ieri emozionata sul palco dove è avvenuto il passaggio di consegne il titolo dialogo con il territorio manifattura e turismo come volano di sviluppo alessandra baronciani ceo di isopoc eletta alla guida di confindustria le idee della nuova presidente sono chiare perché oltre alla manifattura l'obiettivo è quello di spingere anche sul turismo come segmento industriale capace di far crescere il territorio e qui vediamo nella sequenza fotografica alcune immagini dell'assemblea che si è svolta ieri la platea degli industriali allo sperimentale di pesaro rete stradale e telematica il pesarese rimane isolato e il congedo di papalini tra bilanci di mandato nei pubblici richiami ci sono nodi da sciogliere il presidente l'ex presidente ha lasciato un testimone alla nuova alla nuova presidente e quasi la totalità dei comuni dell'entroterra ha evidenziato sono ancora privi di una rete telematica veloce questa è una necessità imprescindibile per affrontare il futuro la mancata programmazione di investimenti a lungo termine sarà un freno allo sviluppo il potenziamento energetico nelle aree industriali un collegamento ferroviario di alta velocità sulla fascia adriatica e verso roma il potenziamento del porto di ancona la quasi totale assenza di voli da e per l'aeroporto di falconara sono le carenze appunto della nostra regione carenze cui appunto la politica dovrebbe rimediare galantara nuovi degenti attivati altri 12 posti letto la rsa ospita pazienti covid da tutta la regione ma rischia l'overbooking che cos'è l'overbooking sarebbe una super prenotazione ovvero tante tante richieste superiori alla possibilità di contenerle di esaudirle tutte e poi raggiunto l'accordo sui rimborsi al codma si torna a vaccinare scongiurato il rischio del trasferimento a lab di mondolfo sembra che la situazione al codma sia migliorata grazie all'intervento della protezione civile che si è potuto ripristinare grazie all'accordo raggiunto per un piccolo rimborso spese ma poi vedremo anche sul resto del calino come ci sono polemiche perché le file si dilungano e a fano fanno riferimento anche i cittadini di pesaro e qui abbiamo la vicenda della ragazza di 13 anni colta da una emorragia cerebrale a neurochirurgia la rinascita e il giornale evidenze la testimonianza del papà di giulia colpita dalla patologia congenita mentre usciva di casa per andare a scuola la ragazzina è stata operata dall'equipe del dottore morabito ringraziamo i sanitari per la competenza e l'umanità mostrate ebbene questa ragazzina è stata accolta all'improvviso da un forte da un forte mal di testa in realtà era una emorragia cerebrale è stata subito ricoverata al pronto soccorso di fano e da qui poi trasferita all'ospedale san salvatore di pesaro dove è stata operata dall'equipe di neurochirurgia del dottor morabito due ore di intervento per rimuovere l'ematoma che si era appunto che aveva ostruito il passaggio del sangue al cervello e poi il trasferimento in rianimazione e qui è cominciata l'attesa lunga giorni un'attesa ansiosa un'attesa che ha veramente prostrato anche i genitori in attesa di una risoluzione finalmente questa poi è avvenuta la luce della speranza per i genitori si è accesa quando mercoledì dopo tolti i sedativi e senza più il respiratore giulia ha iniziato a risvegliarsi quindi un articolo che dà un po di speranza insomma è un articolo a buon fine la tassa sui rifiuti cresce di un milione adesso il gettito globale ne vale oltre 19 incrementato il valore della tari in favore di marche multiservizi ma circa 600 famiglie hanno avuto lo sconto e quindi bene insomma il comune ha avuto i soldi e le famiglie bisognose hanno avuto una decurtazione della tassa e poi vediamo ancora sul corriere adriatico a monte calvo in foglia in realtà la località interessata è quella di borgo massano dove gli inquirenti stanno indagando per accertare gli autori di un'aggressione ai danni di due giovani che si erano fermati nella località con la loro auto sono stati malmenati da un gruppo di violenti a un nome uno degli aggressori del ventenne picchiato dal branco i carabinieri hanno identificato un assalitore si cercano però gli altri complici quindi si cerca di far parlare questa persona che è stata identificata per conoscere poi tutti gli altri autori di questo assalto rientrato con un nome falso perseguita ancora la moglie ricercato per sette condanne è stato rintracciato in un bar deve scontare oltre sei anni di carcere è un albanese che con un foglio di via è tornato in patria poi è ritornato in italia sotto falso nome ha cominciato a perseguitare la moglie quest'ultima si è ricata di nuovo a denunciare la sua presenza alle forze dell'ordine le quali lo hanno arrestato e ora dovrà scontare appunto la condanna e qui abbiamo un episodio di un di un problema che si è verificato al lavoro si amputa un dito mentre taglia una tavola vittima un operaio di 53 anni di un cantiere edile l'intervento per riattaccarlo è accaduto a cagli si tratta di un residente a furlo di acqualagna stava tagliando una tavola quando la sega gli ha amputato un dito subito è stato ricoverato è stato ricoverato il è stato recuperato il dito tramite l'eliambulanza è stato trasportato all'ospedale di torrette di ancona e qui il dito è stato riattaccato ormai i prodigi della chirurgia a fano amore tossico sotto sono 8 i codici rossi per le violenze provocate dal rancore e questo è il bilancio della polizia d'estato del commissariato di fano guidato dal dirigente stefano seretti in pochi mesi sono stati appunto individuati otto autori di violenza uno solo era una donna una donna quindi la vittima era un uomo appunto un uomo sottoposto a stalking dalla sua ex compagna una donna romagnola che non si rassegnava alla fine della relazione amorosa e che ha reagito alla delusione ricorrendo alle molestie pesanti negli altri sette episodi si è trattato invece di uomini che sottoponevano ex fidanzate ex conviventi ed ex consorti una di loro è di origine straniera a continue minacce e sopraffazioni psicologiche ovviamente questo è un po un quadro che viene fatto in prossimità della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si festeggia nella giornata di giovedì silenzio per quattro mesi e quel parere che non c'è un titolo che riguarda invece quello che i commenti che si sono verificati alla riunione della commissione garanzia e controllo che si è svolta l'altra sera a fano sulla questione dell'aeroporto ci sono critiche da parte della opposizione sul giornale oggi intervengono il gruppo consigliare del movimento 5 stelle e lucia tarsi di fratelli d'italia critiche sul caso aeroporto movimento 5 stelle contro il sindaco il sindaco che si è assentato a metà della seduta della commissione e quindi alcune risposte non sono state date alle domande poste dai componenti della commissione stessa tarsi e dubbiosa sull'arbitrato che la provincia ha richiesto ancora per verificare la posizione dell'ex amministratore unico santorelli e poi vediamo sicurezza stradale ora i progetti per 4 milioni e l'assessore tonelli dopo la giudicazione del bando che interviene e dice spiega come poi utilizzare queste risorse sulla Val Metauro abbiamo un articolo che riguarda le iniziative di Natale la Proloco ha presentato in regione gli eventi organizzati in tutto il territorio provinciale il presidente Bartocetti ha ringraziato la giunta a Quaroli per il sostegno che è stato dato a Mondolfo per gli allagamenti si richiede invece lo stato di emergenza iniziativa congiunta di Fano e Mondolfo l'annuncio di barbieri in consiglio dopo i danni che si sono verificati nel corso dell'ultima tempesta dell'ultimo fortunale che ha procurato veramente tanti e tanti danni sulla pagina di Senigallia musica sì ma senza i concerti una notte soft per Capodanno anche Senigallia evidenzia le sue iniziative di Natale all'ex pescheria la mostra della Lego per tanti bambini e lì veramente è entrare in un paesaggio fantastico che si può costruire con le proprie mani come uno vuole però la fantasia qui naviga a piene immagini insomma in piazza Garibaldi, Mercatini e pista di ghiaccio ed ora passiamo al resto del Carlino non è vaccinata, salvate-la voi un'anziana ricoverata, la telefonata del figlio in lacrime con i medici colpa mia ha detto ho sbagliato e poi altre notizie che vengono richiamate in prima pagina a Borgo Santa Maria incontro con il sindaco da parte dei residenti segni di cedimento di una palazzina e c'è l'appello di 28 famiglie per avere un aiuto dal comune addio Marche Nord verso il ritorno della ASL provinciale Marche Nord sembra perdere il suo valore di azienda e si ritorna però con tutte le opportunità del caso alla ASL provinciale e poi allarme lavoro introvabili gli operai specializzati è un allarme che proviene dalle aziende dell'entroterra e tra i contestatori della Lucarelli al Circo Massimo di Roma spunta un fanese e volano gli insulti per quanto riguarda la cronaca ditto tranciato dalla macchina per il legno è un titolo che appare a fondo pagina e per il basket Drell non tornerà VL in arrivo un americano apriamo subito abbiamo subito il giornale all'interno delle pagine e vediamo come la regione si appresta a dare l'addio a Marche Nord come azienda per fare tornare l'assistenza sanitaria territoriale alla ASL provinciale a dicembre sembra che verrà dato questo annuncio su cui aveva insomma aveva cercato di insistere almeno di contrastarlo il PD però insomma sembra che l'annuncio dell'addio all'ASUR e dalla nascita delle 5 ASL provinciali si farà verso il 15 dicembre quando la giunta a Quaroli presenterà la manovra economica per l'anno a venire e sembra ormai questa una decisione secondo il resto del Carlino acquisita madre malata il figlio in lacrime ai medici non è vaccinata colpa mia salvatela voi Umberto Gnudi che è primario del pronto soccorso di Marche Nord e qui lo vedete nella foto dice molto frustante per chi fa il nostro lavoro gestire qualcosa che poteva essere evitato insomma il covid sta riprendendo grazie a chi non si vaccina ha detto il primario nel mio turno tra le 20 di lunedì sera e l'una del mattino di martedì sono arrivate in pronto soccorso sei persone è un caso mi sembra spieghi bene cosa sta risuccedendo ovvero l'aumento dei positivi è arrivato lo scivolo di ghiaccio a Pesaro ed è subito polemica insomma c'è chi lo vuole e chi non lo vuole chi lo vuole sono alcuni commercianti che dicono finalmente non tutto viene organizzato in centro ma qualcosa anche in in situazioni un po' decentrate insomma non è proprio la periferia però insomma sono quei quartieri un pochino al limite del centro e a Borgo Santa Maria il condominio è a rischio incubo casa per 28 famiglie appello al sindaco aiutaci potremo abbatterlo e ricostruirlo ma dove vivremo nel frattempo insomma veramente una situazione difficile per queste famiglie in cui la casa vi abitano da 30 anni Poetico addio di Mauro Papalini per la Baronciani recita Itaca ieri allo sperimentale cambio di guardia la guida di Confindustria sale per la prima volta nella storia una donna al comando e di questo abbiamo parlato il senza tetto un esempio felici con poco riapre casa a Tabanelli Gianfranco De Gregorio 60 anni è stato il primo dei volontari a dare la sua disponibilità esperienze formative quelle che si che si compiano all'interno di questa casa che è stata costruita dal Lions pesarese vediamo ancora paga una vacanza sulla neve di Cortina state attenti alle truffe online ma la casa dei sogni non esiste in questo caso è stato vittima di una truffa un imprenditore fanese che ha speso 7 mila euro per andare in vacanza a Cortina ma era una truffa un cinquantenne ora è sotto accusa il luogo era alettante il paesaggio bellissimo neve alberi insomma natura aria buona tutto quello che uno può aspirare può aspirare in una vacanza natalizia e lui ha pagato prima ha dato un anticipo poi ha pagato tutto il resto ma alla fine la casa non c'era e quindi è stato truffato insomma bisogna stare molto molto attenti e poi vediamo ancora Candela a Candelara torna la suggestione ingressi limitati rispetto al passato è obbligo di Green Pass ma nel prossimo fine settimana si riparte non vediamo l'ora hanno detto gli organizzatori e qui vedete insomma la fase della presentazione dell'iniziativa con Francesca Francoellucci per Paolo Giotalevi per Giorgio Pietrelli e Francesca Tomassoli il 27 e il 28 novembre ci saranno i primi due appuntamenti e poi si replicherà il 4 il 5 l'8 l'11 e il 12 dicembre dalle 10 di mattina alle 22 di sera nelle 7 giornate le 60 casette in legno animeranno il mercatino e siamo ormai in conclusione vediamo la pagina di Fano aggressione a Selvaggia Lucarelli spunta un fanese nel video della blogger si tratta di Simone Giorgioni 58 anni titolare di un ingrosso di carne che è finito sulla bocca di mezza città beh a renderlo celebre un filmato di Selvaggia Lucarelli giornalista blogger e giurata di Ballando con le stelle girato al Circo Massimo di Roma durante una manifestazione Novax ebbene Raduno No Pass o Novax insomma al Circo Massimo manifestante la insulta ma io ha dichiarato sono contro la violenza parlare di carnevale forse è un po' prematuro ma bisogna parlare per tempo perché poi la fase organizzativa richiede diverse iniziative e diverso tempo carnevale però c'è un'ipotesi di rinvio ancora non si sa come sarà la situazione nel prossimo mese di febbraio e i caresti sono delusi loro devono avere un input subito per poter realizzare i carri per il prossimo corso mascherato c'è stato un incontro collente l'assessore Lucarelli date le incertezze legate al covid l'appuntamento potrebbe slittare ancora una volta in estate è tempo di decidere basta in duci dicono i carristi come professionisti avremmo preferito avere un po' più di certezze per poter lavorare più sereni insomma comprensibile sono comprensibili le loro esigenze ma come può uno prevedere il futuro e poi qui abbiamo invece una situazione critica che viene rilevata al CODMA serpentone di auto per i tamponi in fila da due ore e mezzo insomma un afflusso in aumento nel hub di CODMA violenze di genere codice rosso per otto due ai domiciliari altri allontanati da casa con divieto di avvicinarsi ma tra le vittime c'è anche un uomo ed è il risoconto del commissariato di Fano sulle violenze di genere e poi ancora il covid si è ripreso alla vallata del cesano non ci sono più comuni liberi dalla pandemia il numero dei contagiati è più che raddoppiato nelle ultime tre settimane vediamo ora le notizie di sport sul resto del Carlino la visse blinda astrologo mercato spunta Vasic e il presidente Bosco investe sul giovane talento ex Roma che firma un triennale dal mercato di rafforzamento potrebbe arrivare l'attaccante ora in Svezia per quanto riguarda invece il Fano Calcio ci sono tre partite per capire chi siamo parla così Casolla sei gol in dieci gare che lancia l'Alma le prossime saranno con il Pineto con il Trastevere e la Re Canatese e diranno se possiamo lottare per vincere c'è una intervista appunta con Casolla per quanto riguarda invece la VL la squadra pesarege dice addio Adrel ma un americano è in arrivo accordo raggiunto per la transazione del contratto con l'ala che va in Polonia ore decisive per l'arrivo del suo sostituto le altre pericolanti la fortitudo cede Baldasso e prende una guardia USA la prossima sfida sarà in casa contro il Varese e vediamo anche come enuncia le notizie di sport il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico abbiamo Farroni titolare inamovibile della Visse il portiere ha giocato dall'inizio tutte le 15 partite di campionato anche Giraudo e Gucci presentissimi nelle scacchiere di Banchini insomma giocatori indispensabili per quanto riguarda la squadra bianco-rossa Fano ogni partita come una finale il direttore dell'area tecnica Granata Califano non fa programmi un match alla volta dice vediamo una partita alla volta dopo le ultime due vittorie consecutive l'atmosfera nell'alma si è un pochino rasserenata ma c'è ancora molta strada da percorrere e vediamo anche sul Corriere Adriatico cosa fa la VOL VOL così ce la fai i tifosi cambiano idea dopo una vittoria che è un po' anche qui rasserenato l'atmosfera a Cremona la differenza è stata l'atteggiamento ovviamente tutti sperano che durante la sosta arrivi almeno un rinforzo e con questa speranza noi terminiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno al TG di Fano TV delle ore 20 e 30 condotto da Simona Zonghetti buona giornata di Fano TV di Fano TV Grazie a tutti.